Oggi ci affidiamo all'intercessione della nostra madre di San Giuseppe per vivere un Natale veramente cristiano, liberi da ogni mondanità, pronti ad accogliere il Salvatore, il Dio per noi. Angelus Domini, Nusiavit Maria, auguro a tutti una buona Domenica e un Natale di speranza, con le porte aperte al Signore, un Natale di gioia e di fraternità. Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus. Amen. Grazie. Grazie.